Ciao amici, eccomi di nuovo qua, sono Luigi, faccio parte del team fotografico di Langa Studios sono qua nuovamente per illustrarvi un nuovo shooting che fa parte del progetto Posh Star Tour oggi siamo in un'altra località, siamo in Toscana, precisamente a Colle Valdelsa dal ristorante Due Stelle Michelin Arnolfo il protagonista in questo caso è lo chef di Aitano Trovato che dal 97 ha ben due stelle Michelin ed è una figura molto importante, basti solo a pensare che collabora con i locali più famosi delle Maldive come il Four Seasons come sempre buona parte del nostro lavoro è incentrato sul creare delle immagini e realizzare delle fotografie per web il primo passo da andare a fare è realizzare e sviluppare un brief con le persone del posto, in questo caso lo chef per essere sicuri di andare a realizzare uno shooting mirato buona parte del nostro lavoro è incentrata nel visualizzare come il cliente si mostra attualmente prima di effettuare lo shooting vero e proprio quindi in questo caso siamo andati a visualizzare le fotografie all'interno del sito del cliente e come potete notare c'è una forte presenza di bianco, per esempio nelle foto dei piatti e questa presenza di bianco tende a renderle abbastanza impersonali cioè manca una firma in queste foto che appunto contraddistingua un po' il piatto ed ecco per questo che ci siamo concentrati soprattutto sulla composizione in sé come potete vedere questi piatti qua sono abbastanza coreografici già di loro ma non può essere solo questo il principale punto di forza dello scatto il nostro obiettivo è quello di andare a creare diciamo una composizione alternativa che si differenzia un po' dal solito per questo progetto abbiamo voluto realizzare diversi scatti dalla parte esterna del locale, agli interni, ai ritratti dello chef ma vorrei concentrarmi un po' di più in questo caso sui piatti e per far ciò abbiamo... grazie a tutti